Con il Consiglio Generale di oggi avviamo la fase congressuale della nostra organizzazione, il sindacato di polizia della CGL e entro il mese di aprile, comunque prima del congresso confederale, pensiamo di chiudere i lavori. I temi sono quelli della razionalizzazione che per noi ha il nome di unificazione delle forze di polizia e del riconoscimento delle libertà sindacali. Per questo comincia oggi una fase congressuale in tutte le città italiane dove cercheremo di coniugare il diritto alla sicurezza dei cittadini con i diritti dei lavoratori della nostra categoria, donne e uomini che si impegnano quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini.